Si salva il lavoro tenendo aperte le fabbriche e le aziende e non alimentando le polemiche e le tensioni. Si salva il lavoro risolvendo la crisi industriale e non giocando a chi urla più forte. Questo accordo è un passo in avanti importante che porta un segnale di speranza in una delle più grandi crisi che avevamo. Con queste parole il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha commentato la firma a Palazzo Chigi dell'accordo di programma per la riconversione dell'area affaria di Servo e la Triestina. Un'operazione, ha spiegato il Premier, che grazie a un investimento privato fatto da una delle più grandi realtà italiane e da un investimento pubblico consente di salvare 410 posti di lavoro diretti e un migliaio di posti di lavoro nell'indotto. Abbiamo fatto un lavoro di squadra insieme ai lavoratori, ai sindacati, ad Arvedi, alle istituzioni locali e dal governo. Abbiamo trovato un punto di equilibrio importante che ha consentito di risolverli nel poco più di un anno una crisi industriale complessa tra una delle più gravi delle paese con la continuazione di un'attività industriale ma soprattutto nell'interesse dei nostri cittadini con il risanamento ambientale di un sito fortemente messo a prova, dura prova, dalle produzioni. Questo è il commento invece della Presidente della Regione Frulli Venezia Giulia, Deborah Saracchiani. Credo sia l'immagine migliore di un paese che sta tentando in tutti i modi di risollevarsi, di mantenere la propria produzione di qualità, di guardare lontano perché non vogliamo perdere quello che abbiamo, vogliamo consolidare la nostra industria. Non possiamo rinunciare all'esidrogia, un settore strategico che è fondamentale, ha aggiunto la Saracchiani ribadendo che l'accordo consente di salvare tanti posti di lavoro. Credo davvero che abbiamo dato prova tutti insieme che esiste la possibilità di fare e di far bene. Un fatto concreto come questo è la risposta migliore a tanti che ancora non credono in questo paese. Certamente Trieste è un esempio eccellente che dimostra come nonostante i problemi ci siano, con la buona volontà di tutti è possibile trovare una soluzione, ha fermato il Ministro per lo Sviluppo Economico Federica Guidi. Fin dall'inizio tutti hanno avuto a cuore un interesse primario strategico nel preservare la siderurgia, nel preservare i posti di lavoro in totale rispetto dell'ambiente. Anche su questo punto dobbiamo dire che a nostra giudizia bisogna ancora lavorare e da un poco, anzi puntando ad un miglioramento dal punto di vista ambientale con un'impresa, un imprenditore che fa il suo mestiere, ci crede, rischia e condivide con le istituzioni locali e con il governo. Per cui di dunque oggi è stata vinta una scommessa importante che va a beneficio dei lavoratori e di tutto il sistema industriale italiano, magari per chi abita a Salva probabilmente molto meno per l'ennesima volta. A margine della firma dell'Accorto, l'impegno per la ferriera è stato sottoscritto da Giovanni Arvedi che ha parlato di quell'estabilimento come completamento del sito di Cremona che aveva bisogno di un'area sul mare, che Trieste è uno dei porti più importanti d'Italia anche per i suoi fondali, garantendo un luogo ideale per lo sbarco e l'imbarco dei materiali. Son Marvedi ce l'ha già fatto capire che più che la ferriera, di fatto, gli interessa la banchina e di farsi un porto privato.